Buonasera dalla redazione di FanoTV, sono sempre io che cerco di mandare dei segnali ai cittadini fanesi. Guardate, il parcheggio nuovo ancora, ci sono 5-6 contenitori per i rifiuti, ma la gente qui ancora non ha capito che non bisogna fare queste cose. Ti viene a sedere su una panchina, vieni qui a consumare il vinello bianco qui o quello che sia e poi lasci la mondezza per terra. Non mi sembra giusto che la gente si comporti così. Come vedete le ho raccattate e bastava poco, guardate, bastava poco e a pochi metri non c'è bisogno di lasciare la roba per terra.